Sono venuto qua con fiducia, con entusiasmo e non vedo l'ora di iniziare. Per conquistare questo obiettivo dobbiamo stare insieme, dobbiamo stringerci e cercare di vincere il più partite possibile. Io ho scelto il 25 e potrei dire che è il giorno in cui io e la mia ragazza siamo messi insieme. Grazie ragazzi per il sostegno e vi aspettiamo allo stadio.